Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo minovito, qua è Firono, vi parlo di un nuovo video nella carriera allenatore del Sassuolo, non ve la portavo dal 4 gennaio e oggi mi sono deciso a portarla. Vabbè, ci eravamo lasciati con questa classifica, con noi che eravamo terzi, ma che ora ci supereranno praticamente tutti. Sì, è andata abbastanza male questa carriera, però cercheremo di recuperare. Inoltre ci eravamo lasciati con Pellegrini che è stato squalificato e Politano che si è rotto per tre mesi. E con questa formazione che a me fa schifo, però non so perché l'ho fatta, però vabbè, ora è la giusta e ci vediamo direttamente dopo. Ok ragazzi, questa è la formazione che sono riuscita a creare, con Mina, Trequartista, totalmente a caso, Miguelonna a destra. Poi Mazzitelli che si sostituisce per Legrini che è squalificato, quindi è indisponibile. Qua mettiamo Magnatelli. Poi qua ci stanno un casino di giocatori che non mi ricordavo neanche che ce l'avevo. Quindi, boh, ci vediamo direttamente nella prossima partita che dovrebbe essere contro il Cagliari. Comunque poca roba questa carriera fino ad ora. Non so come ho fatto a perdere così tanto, però vabbè. Visto che oggi è Pasqua, quindi buona Pasqua a tutti, vi volevo fare una specie di sondaggio, ovvero quante uova avete ricevuto per Pasqua. Poi vi lascerò un sondaggio in alto a destra e cliccateci e dite a me quanti uova avete ricevuto. Vabbè, intanto cominciamo con il Sassuolo che attacca da destra verso sinistra. Lugani, Mazzitelli, Caldara. Duncan, per Marco Piazza, si propone Mattia De Sciglio a sinistra. Piazza, ancora Piazza. De Sciglio, posizione regolare. Bene, se l'ha mangiata subito. No, si è rotto De Sciglio, che cosa bella. Vabbè, allora non so neanche... Segnavo pure io dalla... Sinceramente, vabbè, vabbè. Rattaccano loro, con Ionita. Taxi, passaggio. Farias. Lei contro piede. Per De Freel. Uh, buono. De Freel, fuori. Calcio da... Ionita. Sao. Sao, oh, Ionita. Il pallone in mezzo, Mazzitelli. Eh, attenzione al contro piede con Domenico Berardi. Per Mattia De Sciglio. Ota passaggio, però va bene comunque. Marco Piazza, dai, Piazza. Buono, Marco Piazza. Il pallone ora per De Freel. De Sciglio ancora vuole palla. Il pallone per lui. De Sciglio. De Freel. Brutto. Ci regala palla. Dai, Domenico Berardi. Berardi, Berardi. Berardi in mezzo. Mina. Ma c'è un ottimo Ryu. Calcio d'angra. Michelon. Ancora Michelon. Per Santimino. Rego a De Freel. Allarga per Mattia De Sciglio. Mattia De Sciglio. De Sciglio. Prova il guizzo. De Sciglio in mezzo per De Freel. Regalata, ma attenzione a Berardi. Ryu ancora. Ma chi è sto portiere? Prepara tutte. Ionita. Attenzione a Isla. Ora controverso del Cagliari. Ionita. Sau. Povera Mattia De Sciglio. Finisce il primo tempo. 0-0. Ora vi faccio vedere le statistiche del match. Con loro che non hanno mai tirato in porta. Mai tirato proprio. Noi 5 tiri. 4 in porta. Noi 54%. Loro 46. 8 contro 6 vinti. Vabbè siamo infortunio uno noi. Vabbè. Dove. Però vabbè. Ah sì di Mattia De Sciglio. Vabbè. Ci vediamo rettamente dopo almeno il secondo tempo. Si comincia. Secondo tempo. Tacxidis. Dietro per Balsano. Isla. Farias. Ecco Farias. Molto buono qua. Danca. Poi era abitante. Ancora abitante. Contro Farias. Farias. Il pallone in mezzo. Giannetti. Proce Rugani. Potenzione. Era Danca. Tacxidis. Ionita. Tacxidis ancora. Tacxidis in mezzo. Sau. La prima loro occasione. Vede Mattia De Sciglio. Il pallone buono per Mattia De Sciglio. Per abitante. Poi era Santi Mina. 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 Il pallone in mezzo. De Frel. Ryu ancora. E ora calcio d'angolo. Caldara. Per Miguelon. Miguelon. Berardi vuole palle. Il pallone è per lui. Santi Mina. 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 Per Miguelon ancora. Miguelon. Miguelon. Ottimo il pallone. Ora per Piazza. Ryu ancora. E poi Piazza fuori. Vabbè. Non ci credo. Piazza. Mi arco. Ma no. Ma non puoi sbagliare. Mamma. Io non dico niente. I cambi del Sassuolo che avvengono tutti insieme. Con Matri che può fare la punta. De Frel a sinistra. Piazza fuori. Poi Mina esce. Entra Gomes. Il portoghese. Che dovrebbe avere le sembianze di Cristiano Ronaldo. Almeno dovrebbe. E poi entro a Ciappong. Al posto di Miguelon. Che non sta giocando male. Però. Lo voglio sostituire. Intanto qua Mattia Caldara contro Murru. Ancora Mattia Caldara. Molto bene. Per Giannetti. De Frel molto bene. A portargli via la palla. Ora il pallone per Matri. Gomes è da solo. Gomes. Gomes contro Capuano. Gomes. Capuano sulla palla. Molto bene. Poi ora Murru. E il pallone è profondo. Anzi non tanto. Ora Maurizio Isla. Taxidis. Ciao Pedro. Giannetti. Ciao Pedro ancora. Ciao Pedro. Giannetti. Sau. Ottimo Sau. Attenzione ora Sau. Ciao Pedro. Giannetti. Oddio. Pallone fuori. Rimesso dal fondo. Per il Sassuolo. Sceglia Duncan. Per Luca Mazzitelli. Ora. Gomes. Caio Gomes. Molto bene. Ora il pallone per la Gianpong. Dovevo dire il molto promettente del Sassuolo. Il pallone per Alfred Duncan. Mattia De Sciglio. De Frel in sovrapposizione. Il pallone per lui. Tacco di De Sciglio. Attenzione ora. Il matri. Caio Gomes. Gomes. Per Berardi. Il tiro. Ryu. Ma che portiere è? Murru. Murru. Disca tantissimo. Qua su Berardi. Ora però. Ciao Pedro. Ciao Pedro. Murru. Chi se la vuole palla. Sau però il pallone è per lui. Sau per via centrale. Pallone per Giannetti. Fuori. Alta. Sopra la travesta. Tre modi l'ho detto. Sopra la travesta. Un po' a mano di Giannetti. Sau. Sau. Il tiro. La re. Il cavera. Segnato Padovin. La rete è abbastanza immeritata. Poi. Anche le statistiche confermeranno. Poi attenzione a Gaglio Gomes. Sopra la travesta. Sopra la travesta. Sono stati più cinici. E' ufficialmente iniziato il calcio a mercato. Dobbiamo adoperare molto. Ci serve innanzitutto un trequartista. Che io ho pensato. Cioè io ho pensato ad esempio che si. Che l'ho utilizzato trequartista nella mia altra carriera. Con la Taranta. Che poi si è trasformata in Barossia d'Orto. Ma non è questo importante. E poi. Cioè. Dobbiamo prenderci tanti giocatori. Come ad esempio un difensore stabile. Al posto di Caldara. No. Vabbè. I difensori vanno bene. Un terzino destra loro innanzitutto. Poi un trequartista. E uno a sinistra. Perché non è proprio tanto affidabile. Piazza. E poi. Se ci avanzano dei soldi. Potremmo comprare pure una punta. Allora intanto voglio vedere il budget. 7 milioni. Ma dove vogliamo andare? Vabbè. Facciamo un po' di compravendite. Ci vediamo dopo. No. Ora che vedo. Noi abbiamo 0 milioni. Wow. 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 Quindi dobbiamo fare tante compravendite. Cioè solo compravendite. Praticamente. Dobbiamo vendere molto. Vabbè. Ci vediamo dopo. Vabbè. Per prenderci il primo terzino destro. Vorrei mettere Andreoli. Per prenderci Dominic Yorfa. Che dovrebbe essere buono. Molto veloce. E baggato. E gioca con il WOS. Ora con Sims. Sì. Vabbè. Ci dibole in prestito. Ma noi non ci abbiamo niente. Non ci abbiamo una lira. 547 mila. Possiamo scambiarlo con Magnanelli. Tanto non ci facciamo niente. E ora serve una punta. Vediamo qua informazioni dettagliate. Ma quando vai. Armstrong che è molto buono. Ce l'ha avuto. È fortissimo. Wow. E mettiamo qua. Che mettiamo? Potremmo mettere uno che costi tanto. Letchert. Perché non ci faccio niente con Letchert. Vista l'abbondanza di difensori centrali. Qua Nunez. Vabbè. Speriamo bene. Pure Orsolini ci starebbe. No vabbè. Ci abbiamo a destra. Ci abbiamo Berardi. Vabbè. Ci vediamo dopo. Ragazzi. Ci arriva un'offerta da 3 milioni e 4 per un Mazzitelli. Io vorrei. Vorrei metterla a 4 milioni. Perché comunque. Mazzitelli vale 4 milioni a 21 anni. 74. Ed è molto forte. Per la sua giovane età. E quindi. Niente. Ci abbiamo 4 milioni gratis. Accettano. Cioè gratis. Per un giocatore che comunque è molto forte. C'ha un potenziale molto. È molto alto. E quindi. Niente. Diamo gli un giovane. Ma in cambio. Ci prendiamo qualcuno di buono. 4 milioni. Tanto qua buone notizie. Perché accettano tutti. Beh. I or fa. 25 mila. Come quello che vuole. I giocatori chiave prima squadra. Perché tanto. Non ha. Tanta concorrenza. Alla destra. Oltre a Michelon. E a Champong. Che non mi sta piacendo. Poi qua. Armstrong. Mettiamo. No. Perché bonus. Mettiamo il così. 5 milioni. Giocatori. E ti. Importante. Anche se sarà titolare. A quanto. Probabilmente. Vabbè. Duncan vuole parlare del suo ingaggio. E discutiamone. Anche se non abbiamo una lira. Ora. Come già detto in precedenza. Quindi aspettiamo un po'. Ok ragazzi. Cambio di modulo improvvisato. Con Mazzitelli là dietro. E al posto di Mina. 4-3-3-3. Che dovrebbe starci. Ci vediamo dopo. Incomincia. Coltasuali in possesso di palla. Domenico Berardi. Pellegrini. Piazza. Duncan. Subito offensivo. Ora con Marco Piazza. Piazza. Per Mattia De Sciglia. Anzi no. Per Duncan. Alfred Duncan. Il pallone in mezzo. Il pallone che passa. Piazza. Dives e poi Art. Buone notizie per noi. Perché li si è rotto. Iago fa il che. E ora gli entra. Aspettate che non ho visto un attimo. De Silvestri. Vabbè. Meglio. Ci vediamo dopo. Ora Mirko Piazza. Luca Mazzitelli. Mazzitelli. De Frella di lui. Cioè De Frella a prendere palla. Poi attenzione a Pellegrini. Per Domenico Berardi. Art. Calcio d'ambra. Ora Piazza. Per Gregorio De Frella. Mattia Caldara. Il pallone in mezzo. Rugani. E 1-0 Sassuola. Assignato col numero 24. Daniele Rugani. Stavolta lo schema funziona. Prima gol in campionato per lui. Per il numero 24 del Sassuola. Preso dalla Juventus. Un'emisata in prestito. Credo. Poi dopo vedo. Attenzione ora al Gallo Belotti. Per Adam Liach. E' solo Liach. Regala palla a Ionze. Finisce 1-0. Il primo tempo tra Sassuola e Torino. Tanto gli altri risultati sul campo sono Empoli. Palermo. 1-0 per l'Empoli. Juventus. Bologna. 1-0 per la Juventus. Juventus che è settima. Un posto sopra di noi. E quindi cercheremo di superare vincendo questa partita. Anche se sta vincendo pure lei. Quindi è inutile. Intanto si è ricominciato il secondo tempo. Ricominciato il secondo tempo. Coltorino è in possesso di palla. Castano. Val di Fiori. Lucchi. Lucchi. Belotti. Vives. Pellegrini. Berardi vuole palla. Il pallone può era per De Frele. Calcio di rigore nettissimo qua. E cartellino rosso per Leandro Castano. L'ex Roma. Calcio di rigore. E qua nettissimo. E Domenico Berardi ha l'esecuzione. Berardi. Arte il palo. Poi Berardi ancora. La rete. E Dabba. No non è vero. E Dabba. No non è vero. Vabbè. 2-0 Sassuolo. Domenico Berardi ha segno. Il suo settimo gol stagionale. Uno dei migliori del Sassuolo. Anche il migliore. E si comincia. 2-0 per il Sassuolo. Cinquantatresimo minuto. E go. Lucchi. Belotti. Ottimo. Era il pallone per Lucchi. Poi era il pallone per Lorenzo Pellegrini. Giuseppe Vives. Ives. Poi era Miguelon. Molto bene Miguelon. Poi era Domenico Berardi ancora. Domenico Berardi. Punta ora Van Bic. Berardi. Berardi. Riesce a passare su Van Bic. Poi ancora Berardi. Domenico Berardi. Miguelon. Si gira Miguelon. Pellegrini. Pellegrini. 3-0 di Lorenzo Pellegrini. Sassuolo 3. Torino 0. Pellegrini a segno. Andrà Belotti. Lukic. Berardi. Poi era Dalfrede Duncan. Marco Piazza. De Frel può partire. Ottimo errore il pallone per lui. Gregoire. De Frel. De Frel contro Van Bic. De Frel è un altro rosso per me. O giallo. Ma qua è rosso netto. E infatti. Torino in 9. Torino in 9. Berardi da 20 metri. Berardi il tiro fuori di tanto. Torino senza due difensori sotto tre gol. Addirittura Belotti a fare il difensore centrale. Almeno per ora. Certo meglio per noi. Marco Valdifiori intanto. Torino senza una punta. Attenzione il pallone è qua regalato. Ma anzi no. Perché Mattia Caldera arriva prima di Mirko Valdifiori. Che però gli cippa palla. Mirko Valdifiori contro Pellegrini. Valdifiori contro 4. Circondato Valdifiori. Ma riesce comunque a fare una bella cosa. Il pallone ora per Cristian Molinaro. Molinaro. Molinaro la può mettere in mezzo. Il pallone vuole indietro per Daniele Baselli. Baselli, Baselli. La controlla. Il pallone per Molinaro contro Mattia Caldera. Molinaro. Ora contro Michelon. Molinaro molto bravo. Ora la può mettere in mezzo. Molinaro rientra un'altra volta. Molinaro. Il pallone per Lorenzo Di Silvestri. Il tacco. Daniele Rugani però. Molto bravo. Ora il pallone allontanato per Grigua De Fela. Per Domenico Berardi. Mirko Piazza a prendere palla. Mirko Piazza nel pallone per Grigua De Fela ancora. De Fela contro Zappa Costa. De Fela contro 2. De Fela riesce a passare. De Fela di forza. De Fela di forza. De Fela. Art. E ancora De Fela. 4 a 0 Sassuolo. Ha segnato pure Grigua De Fela. Numero 92. Partita molto semplice. Terzo roll anche per lui. Raggiunge Pellegrini. Cambio per il Sassuolo. Con Matri che prenderà il posto di piazza. Con De Fela a sinistra come l'altra volta. Poi Mazziteri probabilmente saluterà perché al suo posto è entrato Rolando Mandracola. E poi l'ultimo cambio non mi ricordo. Ah sì. Che è uscito Berardi e è entrato Mina. Qua intanto c'è fallo di Matri. E vabbè. Molinario Belotti parte Belotti. Ora il pallone in mezzo è molto rischioso. De Silvestri fa il 4 a 1. Senato Lorenzo De Silvestri. Che raggiunge quota un gol. Primo gol stagionale. Gol della bandiera del Torino. Saranno segnati tre minuti di recupero. Quindi il Sassuolo ha ripaticamente vinto. Perché è impossibile. Secondo la legge fisica del calcio. Fare tre gol in due minuti. E quindi niente. Ora Jun Sein. Che prende pure in giro De Silvestri. E finisce qua la partita. E il Sassuolo dopo tanto tempo ritrova la vittoria. In casa. Al Crown Lane. O meglio ma Pai Stadium. E niente. Ora si avvicina all'Europa League. Che sarebbe molto gradita da tifosi del Sassuolo. E anche da me ovviamente. E quindi che dire. Per questo video è tutto. Ci vediamo in un prossimo video. Che ci sarò solo al raggiungimento di 15 like intanto qua Berardi. Non te lo do a manco se mi paghi 900 miliardi. E quindi niente. Che dire. Per questo video è tutto. Ci vediamo in un prossimo video. E qua. Filo out. Ciao.